Coppola La fantasia e la creatività degli stilisti si mettono al servizio dell'abito bianco il protagonista anche quest'anno del salone Tutto Sposi che fino al prossimo sabato esplora tutti gli aspetti legati al giorno del sì dalla bomboniera al viaggio di nozze fino alle proposte per la cerimonia del banchetto e novità di quest'anno l'arredamento della casa dei futuri sposi la fiera della mostra d'oltremare a Napoli detta stili e tendenze per i modelli proposti gli stilisti puntano su linee semplici ma impreziosite da particolari dai corsetti ricamati al tulle per rendere voluminosi gli abiti e per le spose più audaci giochi di trasparenza non mancano i capi da esposizione che inaccessibili per il più diventano opere da osservare è il caso dell'abito di una futura sposa russa che non ha badato a spese realizzato con 600 ore di lavoro da 5 sarte ha uno strascico spettacolare una cascata di perle e pietre preziose che fa lievitare il costo del capo a 500.000 euro abito nero classico per lo sposo unica variazione consentita è il blu e c'è chi azzarda variazioni esotiche come il colletto alla coreana dai segni a posto per gli invitati ai colori di tendenza per l'allestimento della sala nel salone del matrimonio anche le proposte per il viaggio di nozze mete preferite New York, Miami e Caraibi il più gettonato resta però la crociera nel Mediterraneo è il più a di San Susiglio Grazie a tutti